La serata odierna ha per titolo Cavalli pazzi, giovani che si inventano la politica. Qual è il senso di questo titolo? Che abbiamo smesso di chiedere alla politica questo o quella cosa, vogliamo essere politica, vogliamo assumerci la nostra responsabilità, prendere parte, occupare la Repubblica, farlo in maniera democratica, non violenta ma farlo. Ecco che cosa ci accomuna pur nella differenza dei percorsi con Giulio Cavalli, ci accomuna questa volontà di prendere parte e di farla fino in fondo rispondendo di noi e della nostra storia, anche questa è una questione di rimente, io, noi, benvenuti in Italia, possiamo rispondere di noi stessi, delle nostre idee, della nostra coerenza, dei nostri valori, delle nostre proposte. Io non posso rispondere della storia altrui, soprattutto quando questa storia è per molti versi opaca, ecco perché da un lato non possiamo più chiedere alla politica ma dobbiamo diventare politica e dall'altro lato dobbiamo essere noi stessi una proposta politica autonoma. Noi rispondiamo di noi e con questa forza e con questa credibilità ci proporremo in modi e tempi che oggi non conosciamo ancora, ma ci proporremo all'elettorato, perché c'è un elettorato stanco, disilluso, disgustato, svuotato, che non vuole più andare a votare, che vuole tenersi lontano quindi dalla democrazia e dalla politica, noi a costoro vogliamo dire guardate, noi ci siamo e non da oggi, ci siamo da mo' ed è da mo' che ci siamo rimboccati le maniche, che stiamo dentro la storia, che abbiamo delle idee e che queste idee le pratichiamo, noi siamo davvero figli di quel 92, quando nel 92 i giovani di Palermo invasero le strade con la scritta non li avete uccisi, perché le loro idee camminano sulle nostre gambe, ecco noi gli siamo rinati, noi siamo tutti figli del 92, noi sulle nostre gambe abbiamo quelle idee e idee buone che abbiamo nel frattempo maturato, elaborato, costruito, sperimentato, c'è speranza, noi siamo la nostra speranza e faremo fino in fondo la nostra parte.